Magari fa commuovere, però è come ne parlavamo, come il pianto liberatorio, piange per poi stare meglio. In questo senso anche lei arriverà addirittura a riuscire, grazie a questo silenzio che le viene donato, a questo spazio di parola che le viene donato da lui, a raccontarle anche i dettagli del ritrovamento della madre e della figlia. Riuscirà a risolvere anche questa nausea terribile che le prende ogni volta che vede il mare. Leve del mare ricorda il mare come lo vedeva quando stava al centro informazioni nel rifugio in cui aspettava le notizie dei suoi familiari.